Siamo con il dottor Cerchiaro, sempre sul seminario del Consiglio dei Ragazzi ad Expo Scuola. Le chiediamo, dottor Cerchiaro, se secondo lei, alla luce della sua esperienza, la scuola può essere l'ambiente dove si inizia a diventare cittadini e come? Ma lo deve essere, questa deve essere una finalità, un obiettivo davvero centrale, al di là degli eufemismi, dell'enfasi e delle parole, perché intanto la cittadinanza, prima di essere insegnata, va praticata. La cittadinanza è uno di quegli obiettivi che si raggiunge particolarmente, si fa capire ai ragazzi, attraverso la loro pratica, evidenziando e anche, come dire, declinando le modalità diverse con cui un ragazzo, anche piccolo, comincia ad assumere e ad esercitare la propria responsabilità e le proprie scelte. La linea guida, diciamo, la linea guida da un lato e insieme anche il grande contenitore ed ispiratore è l'insegnamento di cittadinanza e costituzione nella scuola. L'introduzione di questo insegnamento, con la legge 169 del 2008, obbliga la scuola a non avere più dubbi nel porre questo obiettivo e questa dimensione. Poi la scuola deve, al proprio interno, con la propria autonomia e anche, secondo la diversità dei tempi, individuare tutti gli spazi dell'esercizio della cittadinanza. Nella scuola la partecipazione degli studenti alla vita della classe, dell'istituto, poi anche del coordinamento tra le scuole, la consulta provinciale, il coordinamento regionale delle consulte. Cioè, ecco, a livello di scuola secondaria magari si individuano subito, no? A livello di scuola primaria, invece, vanno individuate, vanno pensate delle strategie che, certamente, nel consiglio degli ragazzi trova una delle dimensioni più efficaci. Perché? Prima di tutto perché all'interno della scuola, no? Dà la possibilità di sperimentare delle forme di responsabilità, di rappresentanza propedeutica, no? E non solo, come dire, di tipo educativo e iniziale, ma anche di realizzazione. Perché, ecco, poi porta alla scuola, perché il consiglio dei ragazzi non è mai qualcosa all'interno solo della scuola, no? È qualcosa che mette assolutamente in collegamento la scuola con il territorio, no? Con l'ente locale, con le altre agenzie educative del territorio e quindi crea tutti quei ponti che sono indispensabili perché la scuola diventi un luogo che abilita già all'interno alla vita, no? Perché fa conoscere, perché mette in contatto. Ecco, quindi questa è un'esperienza davvero efficace che deve ritornare a seconda dell'età, ma direi nella scuola secondaria di primo grado in maniera decisiva, no? Anche, qui dopo dico un'altra cosa, la scuola secondaria di primo grado deve diventare una responsabilità che porta anche all'interno della vita della classe degli elementi di specificazione, no? Degli elementi che rendono possibile, rende possibile una partecipazione effettiva dei ragazzi alla gestione del curriculum, dello sviluppo del curriculum scolastico, perché è un'età in cui si può cominciare a condividere lo sviluppo del curriculum anche attraverso i ragazzi, certamente non come lo si fa nel quarto e quinto anno della scuola secondaria, ma insomma... Anche attivamente, non solo formalmente, essendo rappresentati da insegnanti e genitori, ma sono proprio... Esatto, qui dentro pensiamo a quanto tutto il tema della valutazione, dell'autovalutazione, no? Ecco, può essere molto importante, ma anche proprio le esperienze di rappresentanza, no? Che i ragazzi possono fare già all'interno della vita della classe, nel coordinamento tra le classi, quindi diciamo quello che nella scuola secondaria si chiamerebbe il comitato studentesco... Anche con nuovi linguaggi, tramite la tecnologia, no? Certamente, certamente, ecco, qui voglio dire, bisognerebbe proprio partire... Adesso io non ho in questi ultimi anni una diretta esperienza, perché il preside alla scuola media l'avevo fatto più di vent'anni fa, no? Sì, a secondaria. Ecco, adesso ho più presente a livello di scuola secondaria, ma certamente le tecnologie... Pensiamo quanto all'interno di questi organismi che sono di ascolto, no? Di ascolto, di condivisione, di maturazione anche di scelte con i ragazzi, si può far passare con loro un discernimento attorno a questi strumenti di comunicazione che sono eccezionali, ma nello stesso tempo destano anche la preoccupazione dei genitori, no? Ecco, e quanto invece, proprio in un discernimento costruito con loro, ecco, può essere fatto. E quindi un utilizzo buono dei mezzi, no? Un utilizzo efficace di questi mezzi, non solo per la comunicazione, ma anche per, diciamo, per lo sviluppo del sapere. Per lo sviluppo fatto dagli stessi ragazzi, per loro stessi. La ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie.